Alcuni analisti vedono l'arrivo di Bitcoin a 22.000 dollari, questa linea che vi ho disegnato qui, come assolutamente probabile nei prossimi mesi. Questa affermazione è vera, c'è un fondamento di verità, possiamo andare ad analizzare dei dati di natura fondamentale che ci possano dare un'informazione in più. Andiamo a capire un po' quello che è successo negli ultimi mesi, soprattutto con la questione ETF che è stata il catalizzatore principale di questa fase per quanto riguarda i mercati delle cripto, che però ha avuto un effetto un po' blando, adesso andremo a guardare anche questa cosa, più di quello che ci si aspettava, quindi un effetto un po' più blando. Poi andiamo a vedere un po' quello che sono le questioni anche degli indicatori di natura fondamentale legate alle opzioni per capire effettivamente se questa fase di bassista di Bitcoin può continuare anche da un punto di vista di analisi fondamentale, anche da un punto di vista di quello che pensano gli operatori del mercato delle opzioni. E poi andiamo a cercare invece di comprendere l'analisi grafica e a livello di target, se questi 22.000 dollari sono effettivamente un target possibile nei prossimi mesi, al di là che ovviamente come sapete tutto è possibile nei prossimi mesi ragazzi, ma diciamo così che hanno una probabilità adeguata oppure vanno poi a modificare alcune strutture fondamentali. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di un'analisi un po' più ampia, una cronistoria di quello che è successo negli ultimi mesi. Sedetevi alla sedia e soprattutto prendete un po' di tempo, 10 minuti, per vedere questo video. Ragazzi lasciatemi un mi piace ovviamente se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi date sempre una mano con l'algoritmo, mi date anche la possibilità di continuare queste tipologie di argomenti. Allora, iniziamo con la questione legata a quello che è successo, per capire se effettivamente il raggiungimento di questo target per quanto riguarda Bitcoin, 22.000 dollari, è possibile nel breve o meno, anche se non è un target molto ribassista. Vi faccio vedere come appunto c'è un 15-20% di distanza dai prezzi attuali, ma soprattutto questo è un target che va a modificare alcune cosette, per esempio il breakout del livello della media mobile annuale che se fatto in maniera consistente appunto sui 22.000 dollari è in maniera troppo troppo veloce a livello temporale sarebbe un male incredibile per tutto il settore, diciamo. Ora ve lo spiego verso la fine del video, facciamo anche questa analisi. Però andiamo a ragionare un po' la questione della corona di storia. Io qui vi ho messo il livello temporale della domanda di BlackRock per quanto riguarda gli ETF. Questa è stata la domanda che ha fatto innescare un po' un pump del 15-16% nella settimana di presentazione di quella che è stata la domanda dell'ETF da parte di BlackRock, un po' perché era avvenuta l'idea che, visto che BlackRock presenta la domanda, la SEC a quel punto avrebbe dovuto approvare gli ETF spot di Bitcoin con quello che ne deriva anche nella questione che magari molti Bitcoin potrebbero essere poi acquistati in spot per essere messi a garanzia poi dell'emissione dell'ETF. Questa cosa qui però ha innescato un balzo, è vero ragazzi, però il balzo si è fermato sul livello di resistenza, un livello di resistenza che è importante, ma è anche un livello di resistenza non così alto rispetto ai precedenti. Questo ha un po' dato un significato a questa fase rialzista, cioè l'hype della presentazione dell'ETF per quanto riguarda BlackRock è stato, c'è stato, però non così importante, segno che il mercato delle criptovalute sostanzialmente soffre di un limbo molto rilevante in questi mesi, un limbo che ha in pratica la sua radice da più mali, diciamo così, da una parte l'assenza dei retail perché allontanati dopo l'ultimo bear market, false promesse per l'ennesima volta spazzate via dagli scammer e da fallimenti colossali come quelli di FTX e Luna come progetto DeFi, un po' anche la questione della DeFi che è venuta meno, cioè ha più che è venuta meno, ha tirato fuori tutte quelle che sono le assenze, le mancanze da un punto di vista anche di programmazione, quindi quanta ancora strada c'è da fare da quel punto di vista per creare questi ecosistemi sostenibili all'interno del settore della DeFi, quindi insomma un'innovazione che è entrata nel famoso limbo. Vi ricordate il video sulla questione della innovazione? Anche io stesso anni fa pensavo che fossimo già in una fase diversa della curva di adoption per quanto riguarda Bitcoin, in realtà mi sto ringredendo moltissimo ragazzi dopo aver visto l'anno 2022-2023, non perché fosse un bear market, io non avevo già vissuti i bear market delle crypto, oltre a quelli dei mercati hold che ovviamente ne ho visti anche troppi, però in realtà è l'atteggiamento che è cambiato, non è una questione del ribasso del prezzo, quindi probabilmente non siamo ancora nella fase early adoption per quanto riguarda la fase di innovazione di Bitcoin, ma siamo nella fase probabilmente di abisso come si suol dire. Questa fase verrà superata io credo assolutamente di sì, però quanto tempo ci vuole, a volte queste fasi sono veramente molto lunghe da superare, molto più lunghe di quello che si possa prevedere o pensare, quindi qui poi bisogna analizzare diciamo con i fatti man mano che verranno. Allora questa questione qui dell'ETF è stata secondo me reattiva ma poco reattiva, in più nelle settimane successive il mercato ha in pratica recuperato totalmente tutta questa fase di hype dell'ETF e addirittura è sceso al di sotto del livello precedente, questo come esempio è come sempre indicazione del fatto che le news nel medio-lungo periodo non hanno alcun impatto sui mercati, almeno che non siano news di natura fondamentale, però l'ETF doveva essere una news di natura fondamentale, però al momento sembrerebbe che i mercati non l'hanno presa come una cosa da cavalcare, come un'onda da cavalcare, quindi c'è qualcosa un po' sotto. Allora questa fase di riposo è anche molto significativa da questo punto di vista, quindi ETF, presentazione di BlackRock, tutti si accodano, non solo BlackRock, un sacco di emittenti di ETF si sono accodate, però la SEC può ritardare fino al 2024, forse il mercato ha detto non vale la pena assumersi i rischi ora per stare poi un anno fermi e attendere quello che succederà, considerando anche la volatilità del mercato delle cripto, e quindi la fase di hype si è riassorbita, però un riassorbimento di una fase del genere è molto pericoloso, perché in sostanza lascia il mercato a se stesso, quindi non c'è in pratica un catalizzatore che possa spingere il mercato ad andare avanti, perché andare su nuovamente, a meno appunto di inversioni di trend, ragazzi, il trend è molto importante anche per gli investitori istituzionali, quando un trend del genere si va a invertire, anche gli istituzionali stessi sono molto attenti nel prendere delle posizioni, prima valutano alcune cose e poi si muovono, insomma quindi non pensate che la questione del trend sia unicamente legata ai retail, non è così ragazzi, è legata appunto anche a un hype generale, quindi molti istituzionali sono anche un po' più lenti dei retail, a dire la verità, quindi non vi credete insomma che queste cose siano quasi all'ordine del giorno, quindi questo è quello che è successo nelle scorse settimane, questa fase di indebolimento è molto pericolosa anche per questo motivo, quindi teoricamente da questo punto di vista il raggiungimento dei 22 mila dollari, come dicono moltissimi analisti, potrebbe essere nelle corde di bitcoin, assolutamente sì, perché il riassorbimento della fase di hype più importante da un punto di vista fondamentale ha dato un segnale assolutamente negativo. Allora andiamo a vedere poi anche cosa dicono i dati, per esempio sulle opzioni di bitcoin con lo skew, il delta 25%, che sostanzialmente è un dato che va letto in questo modo ragazzi, sono gli investitori istituzionali, si proteggono di più dai rialzi quando il delta skew è negativo e si proteggono di più dai ribassi quando è positivo. Sostanzialmente lo skew in questi giorni è meno 4%, di solito oscilla fra meno 7 e più 7, quindi sostanzialmente ci dà un'indicazione positiva, quindi da un punto di vista delle opzioni, quello che vediamo, fermo restando ragazzi che questi dati dovete prenderli con le pinze perché non sono indicativi dei movimenti dei prezzi, bensì di un momento preciso in cui magari gli investitori istituzionali in questo momento si stanno proteggendo un po' di più dalla fase rialzista, quindi restano più rialzisti da questo punto di vista, mentre vedete nei giorni scorsi per esempio lo skew era arrivato a 5,45 o addirittura poi a agosto è stato anche qui a 4,36. In generale tutto agosto è stato in territorio positivo indicando sostanzialmente una protezione dalle fasi ribassiste, tanto è vero che la fase ribassista è avvenuta, perché da agosto in poi, guardate qui, dal 7 agosto poi c'è stato il capitombolo del 10%, quindi questa fase qui, tutta questa fase ribassista è segnata un po' dalla richiesta di protezione di questi, sulle opzioni. Il 14, nella settimana del 14 agosto è avvenuto il capitombolo e come insomma si vede, si evince diciamo qui, vedete dal 18, questa è la settimana del 17, questi sono i giorni, vedete la settimana del 14 avviene il capitombolo in questi giorni qui e lo SKU inizia a diventare nuovamente negativo, segno che in pratica molti operatori sulle opzioni chiudono le protezioni al ribasso e riaprono quelle al rialzo. Tranne questa app molto importante il 29 di agosto. 29 di agosto che in pratica è stata la settimana della ipervolatilità up and down, ragazzi, che ha fatto le doppie shadow, vi ricordate? Quelle rialzista e poi ribassista. È successo un po' la fine del mondo e anche da questo si vede e hanno sbagliato anche qui gli istituzionali, probabilmente si sono riposizionati. Interessante però guardare che attualmente la protezione è sulle fasi di rialzo e io su questo concordo anche per una questione legata alla fase ciclica di Bitcoin, fase ciclica che ne ho parlato insomma nei precedenti video, ragazzi andate lì a rivedere. Ma Bitcoin non è da solo in questa fase diciamo di lateralità perché sostanzialmente anche i mercati classici non sono riusciti per esempio a risalire la china su alcuni livelli. Per esempio Nasdaq 100 non è riuscito nei giorni scorsi a recuperare il suo livello di massimo che precedentemente aveva ottenuto. In più in questa fase che probabilmente ha mostrato su questo livello di minimo la chiusura di un ciclo molto importante, un ciclo da trimestrale probabilmente corto scusate un bimensile corto per quanto riguarda Nasdaq 100 ha indicato in sostanza che questa fase qui potrebbe essere a livello ciclico una struttura ternaria che porta alla chiusura del ciclo annuale che dovrebbe avvenire ottobre novembre. Attenzione su questa cosa perché nella prossima settimana voglio farvi vedere una serie di ipotesi anche su Bitcoin regate al ciclo annuale di cui abbiamo parlato anche negli scorsi video che potrebbe in effetti avere il suo punto di arrivo a novembre in una struttura un po' particolare quindi un po' in anticipo rispetto al solito ma in sinergia con quello che è la struttura ciclica di Nasdaq che potrebbe in effetti essere così. Cioè in pratica questa è una struttura ternaria così sviluppata che dovrebbe portare alla chiusura del ciclo annuale di Nasdaq 100. Ora insomma disegnando così i grafici sembrano tutti facili ragazzi poi il mercato fa le pinte però c'è anche una questione legata per esempio ai ritracciamenti di Fibonacci ed è uno dei miei pattern preferiti in sostanza ragazzi che si chiama Gatekeeper è un pattern che indica che il ritracciamento di un movimento in questo caso è un ritracciamento rialzista di un movimento ribassista che si avvicina in zona 0.78.6 di Fibonacci è il più pericoloso di tutti perché questo disegna in pratica un pattern che è famosissimo e tra l'altro ha una alta probabilità di andarsi a completare di inversione di breve periodo in pratica se questa zona qui di Nasdaq perde aderenza e quindi il mercato ritorna adesso al di sotto di questi livelli così il rischio di completare il Gatekeeper quindi andare a fare una cosa del genere è altissimo ovviamente sempre probabilità sapete che siamo nel mondo elevatorio però è probabilità ora quanta probabilità abbiamo che se Nasdaq e i mercati old disegnano una cosa del genere che tra le altre cose è conforme anche alla struttura ciclica di questi mercati quindi assolutamente ci sta con grande tranquillità quanta probabilità abbiamo che Bitcoin reagisca al contrario in pratica sostanzialmente vada ad avere un effetto contrario nei prossimi mesi e non scenda invece magari entro ottobre e novembre appunto intorno a questo livello dei 22 allora anche il raffronto con gli altri mercati non ci dà un'informazione positiva ce la dà negativa fermo restando che Nasdaq non ha ancora fatto è completato la figura di inversione del Gatekeeper quindi sostanzialmente potrebbe tranquillamente riprendere a salire in questa zona quindi al momento non è stata completata però dobbiamo comprendere che qui il rischio c'è e c'è adeguatamente anche per questo mercato quindi va anche valutata questa cosa tornando a concludere il video la possibilità di arrivare a 22k allora abbiamo analizzato quelle che sono le questioni di analisi fondamentale degli ETF e l'ETF che è stato totalmente riassorbito la notizia dell'ETF è assolutamente una notizia negativa la questione sulle opzioni invece indica che nel breve periodo forse una possibilità di rimbalzino c'è perché alcuni investitori si sono protetti dalle opzioni call quindi dai rialzi insomma con le opzioni call e sostanzialmente questa cosa è interessante andarla a vedere in effetti questo coinciderebbe con l'inizio di una struttura ciclica che può essere nuovo trimestrale anche per Bitcoin magari è solo di breve ricordatevi che quel dato si modifica molto velocemente poi la questione invece legata al rapporto con gli altri indici di borsa soprattutto gli indici importanti dove abbiamo visto anche un certo legame tra Bitcoin e Nasdaq 100 o SP500 è negativo perché ancora Nasdaq è incerto e soprattutto sembra stia delineando quella che è una struttura come vi dicevo di inversione di breve periodo molto potente che porterebbe alla naturale conclusione del ciclo annuale di Nasdaq tra le altre cose quindi niente di anomalo quindi abbiamo 2 a 1 per la questione ribassista andiamo ad analizzare la questione ciclica velocemente ve la ribadisco ma molto velocemente perché la facciamo poi nella prossima settimana di nuovo e ragazzi allora guardate qui siamo a 280 giorni teoricamente stiamo andando a chiudere il terzo ciclo trimestrale di Bitcoin che potrebbe chiudersi appunto intorno ai 300 giorni in questa settimana o massimo nella prossima con un nuovo minimo anche in close ma già questo basta è sufficiente questo è un grafico settimanale questa zona di barra di congestione è sufficiente a chiudere questo ciclo trimestrale poi dovrebbe esserci appunto la questione del rimbalzo cioè Bitcoin dovrebbe rimbalzare per l'inizio del ciclo trimestrale e lì inizia la questione di cui insomma abbiamo parlato oggi cioè il punto interrogativo se il prossimo ciclo trimestrale di Bitcoin sarà ribassista come quello attuale non ci sono santi che tengano scendiamo intorno ai 22.000 dollari e questo è insomma un dato di fatto cioè non c'è modo di secondo me sorreggere questo livello quindi tutto si gioca sul successivo ciclo trimestrale di Bitcoin nella fase iniziale ne avremo subito contezza di questo ragazzi quindi analizzeremo un po' di grafici secondo me può essere anche un'ottima opportunità di trading questa parte qui però in teoria da un punto di vista tecnico anche la ciclica ci dice che il raggiungimento dei 22k è possibile qualora il prossimo trimestrale fosse un trimestrale debole o ribassista e quindi in chiusura del punto successivo trimestrale toccare 22 sarebbe abbastanza consono considerando anche la fase ribassista di Naltec un po' troppo facile forse e anche questo il dubbio ce lo pone perché ci dice vabbè allora tutto ribassista tutto ribassista come sapete quando tutto indica una direzione i mercati fanno il contrario spesso chi ha esperienza sui mercati sa questa cosa quindi bisogna andare a cercare dov'è il segno che il mercato ci sta dando poi non è sempre così a volte se no sarebbe facile facciamo sempre il contrario però in realtà non è così a livello di probabilità a dire la verità è quasi sempre corretto ragionare come stiamo facendo noi perché nel lungo periodo poi tutte le volte i mercati nella maggior parte delle volte si muovono in questo modo allora questa questione qui è legata anche da un aspetto tecnico cioè la rottura della media a 52 settimane il raggiungimento dei 22k qualora fosse un touch and up cioè una cosa del genere fatta con una shadow leggera magari anche non a 22 ma a 23 qualcosa insomma vicino quella soia ci sta per la chiusura di questa fase ma deve essere un touch and up cioè la media teoricamente a 52 settimane deve reggere come vi dicevo nel video di lunedì ragazzi se questa media non regge la questione diventa estremamente complicata una chiusura settimanale al di sotto di quel livello di media diventa poi difficile da recuperare perché la media stessa diventerà un livello di resistenza e la possibilità che bitcoin non riesca in nessun modo entro il 2023 a recuperare livelli medi intorno a questa zona quindi 28.000 circa è molto alta quindi bisogna poi andare a ragionare su questa cosa perciò concludere il video 22k possibile? sì è un livello di prezzo anche io direi insomma tra 23 e 22 più che 22k se lo fa con il touch and up quindi all'interno di una settimana con un eccesso di ribasso e poi ritorna su a chiudermi la settimana sopra o vicino alla media intorno quindi ai 23-24 questa zona qua non deve breccare questo livello di media potrebbe essere comunque la chiusura del trimestrale che è stato anche ribassista e quindi poi in una fase di ripresa qualora invece la settimana si chiuda al di sotto di quel livello della media diventa tutto estremamente negativo però da un punto di vista sia ciclico sia analisi fondamentale sia da un punto di vista di rapporto con i mercati hold il raggiungimento di questi 22k è possibile verso la fine dell'anno non nel brevissimo secondo me cioè proprio questione di giorni non lo so ragazzi non la vedo io perché un po' io nella prossima settimana mi aspetto l'inizio di una nuova struttura ciclica però è anche vero che se il mercato non la fa e allunga i tempi allora poi qui insomma lì è trading lì è breve periodo dobbiamo aggiornarci giorno per giorno però nel brevissimo proprio nell'immediato un balzello ci sta un balzetto diciamo ci sta va bene fatemi sapere cosa ne pensate voi anche su questa analisi 22k punto d'arrivo di questa zona è rischiosissimo rischiosissimo perché poi si innesca la spirale che vi dicevo anche la scorsa settimana possibile questione di cigno nero l'analizziamo anche quella nella prossima settimana la facciamo insieme in una live ho deciso così perché mi avete risposto tutto nei commenti che volete la ripotesi cigno nero ribassiste bla 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 facciamo una live insieme che non la facciamo da tanto anche perché io la settimana prossima rientro a pieno regime dopo una lunga fase di assenza non da youtube ma comunque in generale sono stato in giro e rientro invece a pieno regime e quindi faremo una nuova live per stare insieme ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti